A Bangui, tra gli ultimi bagliori della guerra civile, la vita ricomincia dalle mamme e dai bambini. Dopo la Porta Santa del Giubileo, si apre quella dei centri salesiani di Galabajà. Un dispensario, una scuola, un centro giovanile, per dare loro assistenza e protezione. Dona ora 2 euro al 45524 con un SMS da cellulare personale, oppure 2 o 5 euro da rete fissa. Corsa dei Santi, 1 novembre, Piazza San Pietro. Più siamo e più forte risuonerà il nostro appello. 45524 serve il tuo aiuto.